La rinuncia da parte di Tirreno Power, all'iter autorizzativo di un nuovo gruppo a gas per la centrale di Torre Valdaliga Sud, ha suscitato diverse reazioni. Mentre Federlazio parla di contraccolpo negativo per l'economia locale, Città Futura si chiede perché Enel non prenda la stessa decisione su Torre Valdaliga Nord, il servizio. Sono diverse le reazioni alla notizia della rinuncia da parte di Tirreno Power, all'iter autorizzativo di un nuovo gruppo a gas per la centrale di Torre Valdaliga Sud. Federlazio parla di contraccolpo negativo per l'economia locale in una fase di estrema incertezza e preoccupazione per gli scenari futuri, produttivi ed occupazionali. Il suo direttore generale, Luciano Mocci, avanza quindi la richiesta di un confronto urgente con le istituzioni per affrontare il tema. Ma c'è anche chi esulta e in una lunga nota Città Futura parla di buona notizia, che potrebbe essere legata in qualche modo alle raccomandazioni di John Kerry, ex segretario di Stato americano da sempre impegnato per la difesa dell'ambiente e attualmente inviato in Europa dal presidente Biden per le questioni legate al clima, al premier italiano Mario Draghi, al gota della politica italiana e dell'industria, nonché a papà Francesco. Kerry ha parlato dell'urgenza della crisi climatica e delle opportunità economiche che ne scaturirebbero nel caso si affrontasse nel modo giusto, ma soprattutto ha ammonito l'Italia a non affidarsi al gas naturale, sostenendo la necessità di passare rapidamente a un'economia basata sulle energie pulite e non più dipendente da combustibili fossili di qualsiasi natura. Anche questa è una buona notizia, affermano da Città Futura, e speriamo che la scelta di Treno Power sia legata alla visita di Kerry. Quella cattiva è invece il PNRR italiano. Con riferimento alla transizione energetica, nelle scherre del documento non viene nemmeno recepita la richiesta europea di ridurre di un taglio minimo del 7,6% ogni anno le emissioni di CO2 da qui al 2030. Questo rivela le forti e decise pressioni che le multinazionali casalinghe del gas, seppur partecipare dallo Stato, sono in grado di esercitare, mentre in Europa le lobby sembra abbiano qualche difficoltà in più. Città Futura ricorda che anche l'ONU ha dichiarato guerra alle emissioni di metano e che la Germania, qualche giorno fa, ha fatto un importante scatto in avanti, fissando nuovi obiettivi, riduzione dei gas nocivi del 65% entro il 2030, anziché del 55%, zero emissioni nel 2045 anziché nel 2050 e tassazione dei prodotti inquinanti. Secondo l'associazione è chiaro cosa bisogna fare, cambiare il PNRR copiando dagli altri paesi e modificarne gli obiettivi, con tre azioni principali, abolire i sussidi a fondo perduto alle multinazionali dell'energia, con contestuale spostamento delle risorse sugli investimenti green, tassare le emissioni inquinanti e ascoltare i territori, mettendo l'elemento partecipazione fra gli strumenti essenziali alla costruzione di un processo ormai irrimandabile e irreversibile, che per riuscire richiede il coinvolgimento più ampio possibile. Infine Città Futura pone una domanda ad Enel sulla riconversione a turbogas di Torre Valdalica Nord, sulla quale è in corso un grande dibattito e per affrontare la quale propone soluzioni alternative legate alle fonti rinnovabili, quali le eolico offshore. Cosa aspetta Enel ad imitare Tireno Power e ad abbandonare definitivamente il progetto di riconversione che l'intero territorio non vuole? Al termine dello sciopero dei lavoratori di Civitavecchia Servizi Pubblici di ieri, una delegazione dei sindacati promotori della mobilitazione è stata ricevuta dal sindaco tedesco, con il mandato dei lavoratori di chiedere la rimessa in discussione del piano di ristrutturazione votato lo scorso ottobre, la rivisitazione dei contratti di servizio e un piano di assunzioni stabili nei settori operativi che soffrono di un sottorganico strutturale. Le proposte sono state interamente accolte dall'amministrazione comunale, affermano da USB Lavoro Privato, che ha garantito l'impegno a riattivare un percorso di confronto e partecipazione con le parti sociali, per rivedere il piano industriale della CSP. Un primo importante risultato che si è raggiunto solo grazie alla mobilitazione dei lavoratori, ma che vedrà nei fatti la coerenza dell'impegno istituzionale. USB continuerà a sostenere la lotta dei lavoratori della CSP e a vigilare contro qualsiasi atto che non dovesse andare nella direzione del mantenimento dei servizi pubblici e della piena stabilità occupazionale. Utilizzare la fotografia come mezzo per sensibilizzare la comunità su temi ambientali quali cambiamento climatico, inquinamento atmosferico, inquinamento della plastica e della microplastica. È l'idea di due ragazzi civitavecchiesi, Eleonora Damieto e il giovane fotografo Alessio Mingiardi, che hanno realizzato diversi shooting fotografici. Il primo sulle conseguenze dell'utilizzo sproporzionato della plastica, il secondo in prossimità della centrale termoelettrica alimentata a carbone di civitavecchia. Il terzo invece è incentrato sul problema della microplastica ed infine il quarto su perdita della biodiversità e overfishing. Le interviste. Eleonora Damieto, Alessio Mingiardi, protagonisti di questo shooting che c'è stato per sensibilizzare tutti quanti sul tema dello spopolamento del mare per quanto riguarda i pesci. Ricordo anche qualche anno fa un documentario di Michele Santoro molto bello al riguardo e anche per le reti dei pescatori che rimangono intrappolate nei mari. Com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata per caso. Io studio sostenibilità all'Università di Trento, quindi sono molto aggiornata in questi temi. E appunto, avendo questo mio amico, grande amico fotografo, ho deciso di approfittarne in un certo senso facendo questi shooting fotografici. Abbiamo scelto la foto perché la foto è un mezzo veloce. Siamo molto fieri del progetto perché ha avuto molto successo, sia a livello locale ma anche a livello nazionale. L'impatto, la bomba visuale che arriva immediatamente per chi sta guardando la foto. È un tuo obiettivo, è un tuo talento per poter visualizzare questa situazione per quanto riguarda chi si trova davanti a queste immagini. Sì, è vero. L'impatto è fondamentale soprattutto per scatti del genere perché comunque in poco tempo bisogna arrivare a quante più persone possibile. Quindi la cosa fondamentale è giocare su un qualcosa che arrivi subito nel miglior modo possibile. I pesci sia per quanto riguarda la troppa pesca che viene ormai praticata troppo spesso dai pescherecci è un problema in più se si va a pensare poi al problema delle reti da pesca. Ci sono veramente troppe reti da pesca dentro i mari e questa cosa poi col tempo, visto che è materiale plastico, questa cosa col tempo dà ancora più difficoltà al pesce che in pratica non ha vie d'uscita, non ha molte speranze. Abbiamo deciso appunto di fare questi tre shooting, l'overfishing, l'abbandono delle reti e la perdita della biodiversità. Anche la perdita della biodiversità è un tema poco toccato. Si stima che dei ricercatori stimano che la perdita della biodiversità è la minaccia più grave a livello mondiale. Si stima che addirittura nell'oceano Pacifico il 46% dei rifiuti marini derivano da reti. Le reti nascono per uccidere, cioè le reti sono state create dall'uomo per uccidere. La fauna marina, quindi rimanendo nell'oceano e rimanendo nel mare o intrappolano, continuano ad uccidere o intrappolano la fauna marina o vanno a finire nel fondale e danneggiano i fondali marini, perché anche i fondali marini sono ricchi di flore e fauna marina. La fase ad orologio per la Stemar 90 partirà solo tra due weekend, ma in casa rosso-nera in questi giorni ci sono tantissimi pensieri. Dalla sconfitta contro la fortitudo alla rimonta da tentare per poter conquistare l'accesso ai play-off sono state le riflessioni per i rossoneri. Ascoltiamo il servizio. La Stemar 90 è pronta a prendere carta e penna per riflettere sul futuro del campionato Ricci Gold, prossimo ad entrare nel clou della regular season con la fase ad orologio. Sia per dimenticare il macigno caduto da addosso dopo la bomba sulla sirena di Casale che ha portato alla sconfitta contro la fortitudo, sia per cercare di capire in che modo superare i gladiatori in classifica. Nell'ultima fase la Stemar 90 osserverà subito il turno di riposo, con la speranza che la fortitudo contestualmente perde in casa il derby contro Basket Roma. Nonostante gli sforzi, però, per coach De Maria raffiora qualche brutto ricordo del match contro la fortitudo. Contro di loro abbiamo fatto una partita sempre a rincorrere, afferma De Maria. Non siamo stati in grado di produrre il nostro ritmo contro una squadra attrezzatissima per vincere il campionato. Abbiamo provato a risolverla singolarmente e con la nostra aggressività stavamo per ribaltare la situazione. I gladiatori però sono stati bravi a trovare la vittoria sulla sirena. In classifica sono proprio loro a condurre con 12 punti, subito dietro la Stemar 90, all'omento a sotto di due lunghezze. E visto che per i rossolini sarà impossibile spuntarla contro i romani in caso di arrivi a pari punti, avendo già perso due dei tre sconti diretti disputati, servirà uno sforzo mastodontico per raggiungere la vetta, l'unico posto a mettere in palio l'accesso alla finale play-off. E anche un pizzico di fortuna. A conti fatti sono ben quattro i punti da recuperare per operare il sorpasso. A Campogena e compagni serviranno quattro vittorie nelle sfide che rimangono, compreso lo sconto diretto, proprio contro la Fortitudo, che si giocherà in trasferta. Inoltre bisognerà sperare che la Fortitudo perda uno dei confronti che le mancano da qui al termine del girone, proprio nell'ottica di poter recuperare i quattro punti, che separano le due squadre. La Fortitudo è meritatamente al primo posto, riprendete Maria, ma noi vogliamo portarglielo via. Nella fase d'orologio ci troveremo a giocare quattro partite in tre settimane. Dopo l'esordio con Alfa Omega avremo in serie Basket Roma, Fortitudo e Stella Azzurra. Non so se è stato un buon sorteggio, a me non interessa guardare il calendario. Dobbiamo stare concentrati per provare a fare filotto e sperare in un passo falto dei Romani. Un messaggio sicuramente stimolante, quello dato dal coach di Capua. Meglio riporre penne e block notes nei cassetti e lavorare sodo per correggere gli errori visti contro Fortitudo e Stella Azzurra. E per ritrovare lo spirito di inizio stagione. Le grandi soddisfazioni per la SG non si fermano all'argento a livello tricolore della squadra di Ugolini e Massara. La società del presidente Pierluigi Miranda ha visto mettersi in mostra altre atlete che hanno dato il loro contributo per la promozione in Serie A1, ottenuta ai play-off del Pala Vesuvio di Napoli dall'audace formazione veneta di Torri di Quartesolo, dove militano Letizia Consalvi ed Emma D'Alozzo, che hanno conquistato l'unico posto disponibile per la massima divisione. La formazione della provincia di Vicenza ha prevalso davanti alla Corpo Libero Gymnastic Team, dove era presente un altro prospetto del vivaio Civitavecchiese, ovvero Naomi Pazzon. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it 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 Grazie a tutti.